Indubbiamente le tecniche, quindi il modo in cui fanno vedere i disarmi, sono di sicuro validi. E il problema non è la tecnica, il problema non è mai la tecnica, il problema è sempre il contesto. Il problema è che non considerano come viene usata un'arma in strada. Perché il coltello è pericoloso? Attacco così, lui blocca, io richiamo e taglio. La tecnica, io non ho mai detto che il karate non funziona a livello tecnico nella difesa personale. Oh testa di cazzo, t'ho visto che mi guardavi, che cazzo c'hai da guardare? Oggi finalmente parliamo di armi. Valutiamo alcune cose sul coltello, che è questo, e sul bastone. E le valutiamo in maniera disincantata, il più possibile onesta. Quindi ti dico già che non vedrai come disarmare un uomo che ti minaccia con un coltello, né tantomeno come togliere un bastone di mano a un cattivone. Ma cerchiamo di fare un discorso un po' più serio, con i piedi per terra, per capire perché sono pericolose e come prenderle con le pinze. Ok? Io sono Eugenio Credidio e questa è la nostra serie di video dedicati al karate applicato alla difesa personale. Prima di iniziare, come sempre, ti invito ad andare a dare un occhio sul sito del Dojo Shinsui, www.dojoshinsui.com, che è la mia casa virtuale, dove puoi vedere tutti i video precedenti di questa serie e più tutti gli altri video che ho pubblicato, scaricare parecchie materie alle gratuite e unirti alla Repubblica Indipendente dei Pirati del Karate. Ma adesso vando alle ciance. Bastone e coltello. Se ne vedono moltissimi di lavori online sui disarmi, da coltello, da bastone, da pistola, da kalashnikov, da lanciagranate, lanciafiamme, chi più ne ha, più ne metta. Indubbiamente le tecniche, quindi il modo in cui fanno vedere i disarmi, sono di sicuro validi. E il problema non è la tecnica. Il problema non è mai la tecnica. Il problema è sempre il contesto. Il problema è che non considerano come viene usata un'arma in strada. Come ti ho detto in uno dei primi video di questa serie, intanto è poco probabile trovare qualcuno armato di coltello, bastone o altro. Se qualcuno in strada vuole usare un'arma, la usa in maniera vigliacca. E spesso usarmi non convenzionali, come possono essere le lamette, le siringhe, anche le sigarette, una chiave affilata nascosta in mezzo a un mazzo, un amo dentro un cappello. Ci sono moltissime armi che possono essere celate e che tu non vedrai ma sentirai. E il discorso è sempre il solito, il fatto che cercano di avvicinarsi, di tagliarti la distanza. Per cui mi raccomando, il primo modo per evitare un'aggressione arma normata, a meno che non sia una pistola che sparano da lontano, è tenere la distanza di sicurezza. Sempre quella diavolo di lunghezza di due volte il nostro braccio. Perché io da qui, a meno che non glielo tiro, il coltello non lo riesco a usare. Neanche la lametta nascosta fra le dita, o la chiave, o l'affare dal cappello che tolgo, eccetera, eccetera. Se Daniele tiene la distanza, io non posso attaccarlo. Se non tiene la distanza, è un problema, perché in genere le armi in strada sono celate, non te le fanno vedere, è poco probabile che arrivi uno e ti dice Io ti ammazzo! Va bene? Non è che vado a preso sotto gamba uno che ti arriva con una mannaia e ti dice Io ti ammazzo! Però è più probabile che magari tengono la lama celata tra le braccia. No, ma guarda! Gesticolano, cercano di farti prendere l'attenzione, di far cadere l'attenzione sulla mano, scusami, non armata, per poi piantarti il coltello alla gola e minacciarti. Ricordati, c'è sempre un prima del contatto con l'arma e noi dobbiamo sempre lavorare sul prima. Inoltre, se io volessi davvero aggredire Daniele con un coltello, io molto probabilmente lo terrei nascosto, mi avvicino e nel momento in cui sono vicino inizio a partire per accoltellarlo. Quindi l'idea non è quella di fare gli angoli belli, ok? Non è quella, per quanto discipline come il Kali o il Silat, che sono bellissime tra l'altro, mi piacerebbe davvero molto impararle, siano molto belle e lavorino molto bene con le armi, in strada è poco probabile che trovi quello che ti fa angolo 1, angolo 2, angolo 3, angolo 4 e il 5, eccetera. Così come, come faceva Jim Carrey in un vecchio video che prendeva in giro noi praticanti di karate, e nessuno ti attacca come un serial killer dei Filmorro, ok? È poco probabile. Non la fanno vedere e quando partono è perché o la estraggono e tagliano, quindi nel momento in cui io faccio questo è già arrivata la prima lamata, oppure arrivano, boom, 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 e se ne vanno. Quindi, attenzione, stessa cosa con il bastone, il bastone in strada, è vero che magari c'è quello che ti insulta, qua sì, è più probabile il tizio incazzato, non lo so, che scende dalla macchina, prende il crico, però non è che inizia a fare, e tieni, e tieni, e tieni, ma magari, lusso, ma inizierà, boom, 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 e tu devi riuscire a prendere il tempo e cercare di disarmarlo, possibilmente toccando il meno possibile l'arma, perché ogni volta che Daniele metterà sto braccio sul bastone, si piglierà una bastonata sul braccio. Se arriva con le dita aperte e io gli piglio le mani, qua gli rompo le dita, ok? Altra cosa, che non viene mai considerata, scusami, salto un attimo di palla in frasca, perché sto andando a ruota libera, ma mi si accumulano un po' le cose che ho visto in giro. Quando si lavora con il coltello, molto spesso, quello che vedo fare è, attacco così, lui blocca, e torniamo all'avversario non collaborativo. E io sto qua, vai, fai quello che vuoi, mamma saura, ok? Ora, se io ho un'arma, perché il coltello è pericoloso? Attacco così, lui blocca, io richiamo e taglio, ok? E riparto, anche se uso gli angoli puliti, anche se attacco come un serial killer, blocca, taglio, blocca, taglio, ok? Inoltre ci sono anche gli angoli non convenzionali, perché poi in strada magari iniziano a tirarti il coltello così, 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 ok? Ok, diventa, diventa un problema. Per farti capire la difficoltà, faccio con Daniele un gioco. Allora, puoi prendere, sai quei bastoni che, quei bastoni, quei marshmallow che si usano in piscina, ok? Io li prendo e li taglio, ci facciamo molti esercizi carini. Uno degli esercizi che facciamo è, facciamo finta che sia un bastone. Devi togliermi il bastone di mano, è un gioco, se lo fate è un gioco, va bene? Ovvio che essendoci questo, nel momento in cui io colpisco lui, gli do fastidio ma non gli faccio male. Però, vediamo in dieci secondi quante volte riesce a togliermi il bastone di mano, se lo muovo, come lo muove uno in strada, ok? Pronto Dani? E' un gioco, va bene? Ma pensa se era un bastone vero. Pensa se era un coltello. Che già Daniele è stato bravo perché è entrato un po' più aggressivo rispetto a un gioco normale. Giusto così, eh? Però, capisci che te ne arrivano un botto. Lui qua non si è fermato, anche perché... Però, tutte le volte che tocca, tu devi pensare, ho preso una bastonata, ho preso una bastonata, ho preso una bastonata. O ancora, ho preso una coltellata, ho preso una coltellata, ho preso una coltellata, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, tutto questo per dire che, perché me l'avete chiesto in tanti, il lavoro sui disarmi. Se c'è uno armato, minchia, ma correte, ma veramente, come bip bip, lasciate lì la vostra immagine con la polvere. Uno armato è un pericolo veramente eccessivo. Io lavoro con uno armato solo se non ho nessuna possibilità di fuga. E se non ho nessuna possibilità di fuga, comunque io ci provo a fargli, guarda là, tiè, e scappo. Va bene? Perché il rischio è altissimo. E non c'è tecnica che tenga. Quella lama o quel bastone prima o poi vi arriva addosso. Poi, oh, ovvio, se non ho nessun'altra possibilità, vendo cara la pelle. Ma non mettetevi a giocare con le armi, oppure fatelo per studio, perché comunque la conoscenza è sempre una cosa positiva. Ma non createvi quel castello di carte in testa che, ah, di sicuro, se mi mettono un coltello alla gola, io lo disarmo. Perché quando senti il freddo della lama sul collo, non so quanto riesci a tenere le gambe ferme. Stessa cosa, Daniele ne sa molto più di me, è sulle pistole. Se sentite il freddo di una canna sulla nuca, io non so quanto. Ancora bene, se la sentivi e poi ancora, forse la vedi a un paio di metri. Sì, paradossalmente, coraggimi se sbaglio, Daniele, sotto certi punti di vista è quasi più facile lavorare con un'arma da fuoco, perché se esco dalla bocca di tiro, se esco dalla bocca di fuoco... Se è lontano. In teoria uno armato di pistola non dovrebbe venire qua, perché in teoria lo fa perché non vuole spararti. Se vuole spararti è un coglione, ti spara da lontano. Cosa te ne fai di un'arma da fuoco? Colpisci da lontano. Però, io conosco una signora che ha subito una rapina manormata con la pistola, ha detto che è stata l'esperienza più brutta della sua vita, che quando si è vista la pistola e se l'è sentita addosso, non aveva ben che minima idea di cosa fare. Quindi, e credo che succederebbe a chiunque, indipendentemente da quanto siamo bravi, allenati, quanti dann ci disegniamo sulla cintura, di quanti colori volete farvi la vostra cintura e via dicendo. Di quanto tempo passate, come me e Daniela, a strofinarla per renderla più bianca? Esatto, sì, sì, sì. E via. Se era una cintura. Eh sì, vero, ma è una pratica zen. Ti metti lì e imbianchi la cintura. Quindi ragazzi, davvero, per favore, se volete allenare le armi, allenatele per conoscenza, ma veramente prendetele con le pinze, perché sono una roba proprio brutta. Io spero di averti dato un po' di spunti di riflessione, ringrazio Daniele che mi ha dato una mano in questi video e ci vediamo la prossima volta sempre per un video dedicato al karate applicato alla difesa personale. Ciao e buona pratica!